Soci e amici cari, vi ricordiamo che tra pochi secondi andare in onda direttamente dalla sede della società operaia di Cascina in via Curtatone una nuova puntata del salotto della società operaia, incontri di cultura, storia e attualità. Buona visione a tutti! Grazie 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 a tutti! Buonasera a tutti! Grazie 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 a tutti! che viene, lo scemo si sta già gustando, quel dolce ripieno, che mentre farcivo, riempivo di un buon lassativo, io sono pepegola, e mangio la fragola, fanno il cortile, e racconto con stile, ogni fatto privato, e aspetto il lattaio, ho un flaco e il corsa, io ho un elettricista, un idraulico artista, anche un po' feticista, non sbaglio una miglioriola, sono sempre in frigo, a volte mandrangola, senza una regola. È l'inno della pettegola, l'inno della pettegola è dedicato a una grande artista come Franca Valeri, che vediamo qui sullo sfondo, offerto naturalmente per noi dalla tipografia Bertini, Franca Valeri, che vogliamo ricordare così. Pronto mamma? Ma che te sei scordata qualcosa sulla tomba di nonno? Ah, l'ombrello. Lo sai che si arrabbia se gli fanno disordine attorno? Accidenti. A posto non mi dà più i numeri, hai capito? Che tanto mi serve di vincere l'otto, che devo abita a casa? Ma quanto sei distratta pure te, l'altra volta che sei andata a trovarlo gli hai piantato il basilico e ti sei portata a casa i crisantemi? Valla piano? Ma come? No, io non mi posso muovere mamma, proprio, non mi posso muovere perché c'è una pettinatura, tanto me sta bene ma non passa dall'ingresso, capito? Eccezionale, eccezionale Franca Valeri, vero Jessica? Vero, vero, io non l'ho conosciuta, non ho visto, però ne ho sentito parlare molto. Beh, qualche sfumatura da ragazzino me la ricordo. Come nasce Jessica l'esperienza nel mondo dello spettacolo? Allora, io vengo praticamente dal mondo dell'animazione, quindi sono partita come animatrice. Del ballo, del mondo del ballo. Del ballo, ma prima nell'animazione sono partita come animatrice, coreografa, lontano non dico l'anno perché sennò scoprite l'età, ma avevo 18 anni, quindi un po' più piccola di ora, parecchio più piccola di ora. E poi niente, dopo il mondo dell'animazione sono passata dal mondo della palestra, in tutti i suoi campi, in tutte le sue sfumature e poi ho ritrovato il ballo. Ho ritrovato il ballo e ho preso il brevetto per fare praticamente balli coreografici di gruppo e che comunque è il mio primo amore, il ballo, perché anche da piccolina ho fatto danza classica, quindi insomma ho sempre amato il ballo, ho sempre diciamo abbracciato questo mondo, in tutte le sue sfumature. Nell'FC Fornacette ho iniziato appunto a insegnare balli coreografici di gruppo e è nato il gruppo Jesse Trainer, quindi Jesse Trainer Boys and Girls. Jessica Zagaglia è il tuo nome, Jesse Trainer perché? Jesse Trainer perché appunto nel mondo della palestra è iniziato così e quindi dai primi video mi sono presentata così e poi ormai è rimasto il mio logo, il mio segno di riconoscimento, il mio tag. E rimanendo proprio in tema di coreografie, rimanendo in tema di balli, ovviamente per le normative anti-covid e per la lontananza non ha potuto partecipare a questa trasmissione Patrizia Mancini però ci ha inviato un video messaggio la coreografa di Mediaset che ha partecipato nel balletto come avete visto prima nel video anche all'inno della pettegola. Sentiamo cosa ci ha detto. Ciao Dario, ti mando i miei auguri di Natale con questo video selfie, faccio gli auguri anche a tutti voi e anche a Mauro Corruzzi che siamo stati insieme sul set dell'inno della pettegola e anzi ve ne faccio un pezzettino, un pezzettino così eh, per ricordarcelo, per fissarcelo, io sono pettegola sotto una tegola calugnatrice sulla lavatrice. Quanti ci siamo divertiti, quest'inno della pettegola che poi è un omaggio a Franca Valeri, alla mitica Franca Valeri, che io ricordo con simpatia con questo personaggio della Zora Cecioni perché noi qui a Roma siamo poi un po' tutte Zora Cecioni, capito? Anche inconsapevolmente e allora un bacio anche a Franca Valeri, un bacio anche a tutti voi, buon Natale a tutti e speriamo di vederci presto dal vivo. Ciao! E grazie naturalmente a Patrizia Mancini per averci inviato questo videomessaggio. com'è vissuto questo momento, insomma abbastanza triste per tutti, del lockdown, Jessica? Allora, diciamo che io l'ho visto un pochino come un'opportunità in questo senso e già da marzo comunque quando c'è stato il primo lockdown ho iniziato a fare delle dirette, ho iniziato a ballare un pochino con i miei allievi e poi per un frangente estivo al Campo Fornacette abbiamo fatto anche lì insomma qualche incontro e poi avevamo iniziato a ottobre, abbiamo fatto il mese di ottobre poi di nuovo fermi e ho continuato con le lezioni online e appunto questo lo vedo appunto come un'opportunità perché grazie a questo periodo di stallo ho iniziato a cercare e a guardare più video, ho iniziato a interessarmi magari di più e appunto spulciando YouTube ho trovato l'inno della pettegola. Aspetta, aspetta, parliamo dopo. Vediamo prima 20 secondi di un tuo video. Io sono pettegola e strana così taglio cucio e spargo calunnia La mia mala lingua è nostrana, le studio di notte, io soffro di insonnia Mi giro nel letto nervosa, a volte mi alzo e pulisco la casa Detesto il marito che sogna, col grido improvviso che fa lo spavento Comincio la solita magna Che incubo arrendo Allora, questo era l'inno della pettegola Che ci introduce a quella che è l'appuntamento clou della nostra serata Ringraziamo anticipatamente Mauro Caldera, ufficio stampa di Dario Gai che ci ha permesso di effettuare l'intervista al cantatore milanese che ha creato con Giovanni Nuti, l'inno della pettegola Nei giorni scorsi l'abbiamo chiamato con Zoom abbiamo registrato un'intervista che prego la regia di mandare in onda Allora, nel salotto della società operaia abbiamo il piacere di ospitare Dario Gai nasce come cantatore e un mese fa ha deciso assieme a Giovanni Nuti di scrivere l'inno della pettegola ha fatto, come dire, possiamo dirlo, boom sul web grazie di essere con noi a Dario Gai Benvenuto Ciao, ciao a voi, come state? Benissimo, grazie della tua presenza, ha fatto boom questo inno della pettegola Beh, sta facendo un po' di rumore, questo sicuramente anche perché è una canzone talmente insolita, talmente divertente in questo momento forse ci voleva anche un po' un sorriso, no? Assolutamente sì, come nasce il progetto di questo inno della pettegola scritto insieme a Giovanni Nuti? Allora, intanto nasce appunto dalla mia complicità con Giovanni che è un amico da tanti anni è un musicista grandioso che io stimo da sempre ed è un caro amico per cui noi viviamo insieme delle stesse cose ci divertiamo a osservare i personaggi più bizzarri della quotidianità e la pettegola è un classico personaggio della Milano, delle ringhiere, no? Per intenderci per cui un giorno così, giocando, abbiamo scritto insieme questo brano a me è venuto in mente l'argomento, lui la musica, insomma abbiamo scritto questa cosa di cui ci siamo divertiti noi due per primi, però sai, l'abbiamo scritta senza pensare a cosa farne l'abbiamo scritta e basta. Poi nel tempo è uscita questa idea di farla insieme a Mauro Coruzzi perché io ci vedevo proprio l'ironia di Platinetti in questa canzone e quindi quest'estate l'ho chiamato, gliel'ho proposta e di fatti non mi ero sbagliato perché lui ha subito accettato di partecipare con un grande divertimento anche da parte sua. Senti, questo io della pettegola è dedicato a una grande come Franca Valeri che cosa ha rappresentato per lei Franca Valeri? Intanto dammi del tu perché sennò me ne vado perché non sono così attempato, anche se canto da tanti anni, ma sono ancora un ragazzino Franca Valeri ha rappresentato non solo per me, ma per tutti gli italiani un pezzo di storia perché Franca Valeri era la cultura, è stata una grande attrice, una regista anche di se stessa regista di opere teatrali, attrice di cinema, scrittrice e poi aveva un'ironia talmente unica, talmente sottile che arrivava al cuore di tutti perché poi era anche geniale in quanto i suoi personaggi, pur avendo comunque uno spessore intellettuale notevole erano agibili da chiunque tanto che anche i bambini si divertivano con le sue battute, i suoi personaggi io per primo quando ero bambino la vedevo che al telefono diceva mamma, pronto mamma, scostumato, io ridevo come un matto poi chiaramente crescendo ne ho compreso lo spessore culturale Oltre a quello di far sorridere, ha un altro obiettivo e quale? Che messaggio vuol lanciare questo inno della pettegola? Guarda, nessun messaggio, nel senso che le canzoni devono permettere alle persone di staccare un attimino la spina, la presa dalla corrente e evadere un momento, quindi questa canzone in particolare in questo periodo storico così difficile, così pieno di dolore e di dispiacere così allo scopo di distrarre un attimino le persone da questo pensiero fisso ogni tanto giriamo la testa dall'altra parte e facciamo un sorriso Dal video si vede come il rapporto con Mauro Corruzzi sia buono insomma il lavoro che fate da qualche anno insieme Sei fermo Dicevo, il rapporto con Mauro Corruzzi dal video si vede che è buono siete oltre che artisti e anche amici nella vita Beh sì, ci conosciamo da una trentina d'anni soltanto Praticamente da quando hai iniziato Sì, esattamente, perché lui mi intervistò proprio quando io feci uscire il primo album con la RCA E lo conobbi come... Era un giornalista, cioè, e lo è ancora Mi intervistò per Radio Parma, la storica Radio Parma E non sapevo neanche che esistesse Pratiletti Io ero conobbi come Mauro Corruzzi Mi feci un'intervista bellissima Infatti non l'ho mai dimenticata Perché arrivò preparatissimo su tutto il mio album Conosceva tutte le canzoni Da L'A alla Z E poi dopo qualche anno Andai a fare una serata in una discoteca Insieme ad altri artisti Tra cui Giovanni Nuti E mi venne incontro questa biondona Enorme, no? Gigantesca Truccatissima Che mi salutò abbracciando Dicendo Ah, come stai? Ti ricordi di me? Io lo guardai e dissi Guarda, io non penso che ci siamo mai conosciuti Perché se ti avessi conosciuto Mi ricorderei di te Non potrei dimenticarti mai Poi mi guardò bene Mi disse Guardami bene Guardami bene Io sono Mauro Corruzzi Quando mi disse così Fui sorpresissimo Perché non avrei mai immaginato Che quel giornalista così composto e serio Potessi avere un alter ego Completamente all'opposto Sì, perché la carriera di Dario Gai Comincia come cantatore E comincia con il talentiere Nel 1982, se non sbaglio, vero? Eh sì, sì Ero proprio piccolino Nell'82 partecipai a questo concorso Che si chiamava il talentiere Che nasce da una costola Del Festival degli Sconosciuti Di Teddi Reno Che lanciò tanti personaggi Tra cui Montesano, Rita Pavone per prima Poi Baglioni E in questa edizione C'era anche Rita Pavone Come, diciamo, come selezionatrice E feci una bella figura Tanto che mi portarono in tournée con loro Per tutto l'inverno E lì imparai a muovere i primi passi Nello spettacolo Sul palcoscenico Perché fu una scuola importantissima Accanto poi dei mostri sapri come loro Rita, tra l'altro, era molto materna Con tutti noi Un pochino più giovani di lei Che facevamo per le prime volte Delle cose nello spettacolo Per cui, insomma, fu una scuola meravigliosa Poi, nel tempo, loro due sono diventati Degli amici carissimi Quasi come una seconda famiglia per me Rita Pavone, ma non solo Dario, anche Enrico Ruggeri Dopo aver vinto il premio Dedicato a Rino Gaetano Con Dolores Come hai vissuto Questa collaborazione con Enrico Ruggeri? Beh, una collaborazione che mi ha onorato Anche lì è stata una scuola Molto forte, molto importante Lui, io lo considero ancora il mio mentor È il mio punto di riferimento musicale E anche umano Perché poi, chiaramente, negli anni Insomma, la nostra amicizia è cresciuta oltremodo Ci consideriamo un po' fratelli Con lui ho fatto delle cose molto belle Ho scritto due album Poi ho scritto una canzone per lui Abbiamo duettato in un suo disco Poi lui in un mio disco Ancora oggi abbiamo un rapporto bellissimo E quando è possibile Collaboriamo ancora nella scrittura di canzoni nuove Anche ultimamente abbiamo scritto altre cose Insomma, quindi Insomma, aver potuto fare palestra Ancora accanto a uno dei più grandi cantautori Autori italiani È un privilegio di cui vado molto fiero Hai due partecipazioni anche al Festival di Sare Parliamo nelle nuove proposte Sì Nel 90 e nel 91 Che cosa ricordi in particolar modo di queste due esperienze? Intanto che ero emozionatissimo Mi sono divertito moltissimo La cosa che ricordo maggiormente fu Specialmente il primo anno In cui il Festival si svolse al Palafiori Era l'anno in cui tornarono anche tutti gli ospiti stranieri Che facevano la canzone in gara In lingua straniera E poi c'erano anche ospiti che erano fuori gara Per cui io mi ritrovavo caltapultato in questo mondo Pazzesco Pieno di questi artisti incredibili Ed ero talmente affascinato dal poter di incontrare Che mi dimenticavo quasi della gara Per cui sai Io ho avuto modo di Quell'anno lì Di abbracciare Liza Minnelli Di chiacchierare con Leo Sawyer Di uscire a cena con Didi Bridgewater Cioè è stata un'esperienza meravigliosa Ci sei? Sì, sì Adesso sì Infatti mi hanno fatto cenno È stata un'esperienza meravigliosa Invece tornando all'attuale No, prego, prego Dovevi concludere Sì, no, dicevo È stata un'esperienza meravigliosa Il secondo anno Partecipai con Con Sorelle d'Italia Invece nel Novartuno Un pezzo Un po' trasgressivo Perché parlava di Transessuali Camionisti Quindi è una cosa Molto avanti Forse con i tempi Non arrivai in finale Ma veni detti molti più dischi Del primo anno Però veni denunciato Dai camionisti Dall'associazione Autotrasportatori Perché secondo loro Li avevo calunniati Dicendo che andavano E si intrattenevano Con i viados brasiliani Insomma Vabbè Ficci un po' di scudere Con la canzone Arrivò in finale Ma feci un po' di scudere Sì, sì Parecchio Parecchio Fui denunciato Tornando invece all'attuale Adesso vanno Molto di moda Le challenge Sul social T-talk So che ne hai appena Lanciata Lanciata anche Collino della Pettegola Giusto? Sì, sì, sì In realtà È stata portata avanti Da Jesse Trainer In maniera eccelsa E mi ha divertito Tantissimo Vedere Tutte queste persone Che hanno Ripreso Il nostro balletto Molto meglio Di come Noi abbiamo saputo fare Mauro Coruzzi Ed io Che siamo stati Disastrosi Loro invece Sono brave Tutte E bravi Perché ho visto Anche degli uomini Fare questo Balletto Beh, sì È un gruppo Che conosciamo bene Senti Ma tu non l'hai fatto ancora? Dimmi Dario E tu non l'hai fatto? No Eh, ma devi farlo anche tu No, lasciamo perdere Non sono bravo a fare questo Sono più bravo a fare le domande Che non a fare i palletti Dicevo Dario Tornando a noi Invece Il pettegolezzo Secondo te È sempre verità? Il pettegolezzo Nasce sempre Da una verità Poi viene un po' Trasformata Ma non è mai una menzogna Totale Tante volte Sconfina un po' Nella menzogna Perché comunque Va un po' romanzato Va un pochino Sai Riempito di orpelli Però c'è sempre Un fondo di verità La famosa Voce del popolo Voce di Dio Non è un detto Casuale Poi però Io distinguerei Tra il pettegolezzo Bonario Quello di cui noi Parliamo nella canzone E il pettegolezzo Quello Disonorevole Invece Che circola Per esempio Sui social Negli ultimi anni Quella Diventa cattiveria Io ho sentito Calunniare Diffamare Delle persone Ma Quello è un altro Tipo di argomento Che non Che non è Non fa parte più Del divertimento sano Senti Invece Per quanto riguarda Una tua cosa Hai avuto mai A che fare Con un pettegolezzo Che non era Veritiero Oppure Che non riguardava Te Un'esperienza Personale Su questo tema Beh tante Un po' sono pettegolo Anch'io Perché Nel senso Specialmente Da quando c'è Il lockdown A forza di stare In casa Non fai altro Che guardare Dietro le tende Vedere chi passa Adesso Sto un po' scherzando Chiaramente Però Un po' curiosi Siamo tutti Per quello che riguarda Me personalmente Sono stato bersaglio Di diversi Pettegolezzi Soprattutto Nei periodi In cui ero Più Diciamo Popolare Quando facevo Fatto Sanremo Così Le leggende Metropolitane Sui cantanti Sono quelle più Così Più Maggiore maggiormente Inventando Anche tante volte Di sana pianta Delle cose Perché sul mio conto Hanno spettegolato Basandosi Su supposizioni Ma alcune volte Hanno proprio Inventato Di sana pianta Delle notizie Tipo Quella della mia morte Che è stata data Ben tre volte E come vedi Era falsa Quella notizia Assolutamente Oppure Mi hanno attribuito Amanti Che non ho mai avuto Addirittura Una volta Mi attribuirono Un amante Che Io Assolutamente Non sapevo Neanche chi fosse Ma Questo Raccontò In giro Con una dovizia Di particolari Questi Ipotetici Incontri Che avrebbe avuto Con me E Me li riportò Un amico Comune Insomma Al punto che io Fu talmente Incuriosito E divertito Poi in realtà Da questa cosa Che mi feci dare Il numero di telefono Anche perché Tra l'altro Mi disse che questa persona Aveva un'agenzia Di pompe funebri E abitava Proprio sopra La sua agenzia Per cui Per andare a casa sua Si sarebbe dovuto Passare attraverso Le bare Per intenderci Andare su Cosa che io Non avrei mai fatto Per come sono impressionabile E quindi Chiamai questa persona E gli dici Senti Ho saputo che Io e te Siamo stati amanti E che la cosa Sarebbe stata Anche molto bella E mi dispiace Non ricordarmi Una cosa così bella Ti prego di aiutarmi A ricordarmene E questo qui Ha cominciato A balbettare Il telefono E alla fine Ha messo giù Il telefono Perché era Imbarazzatissimo Era chiaramente Una palla Questa Senti Quali sono i tuoi progetti Quali sono i tuoi progetti Futuri Che hai Ecco Un progetto Un progetto di un album Sto scrivendo canzoni E c'è anche in ballo Qualche progetto Ancora Con Mauro Coruzzi Sicuramente Io vorrei Continuare Questa collaborazione Perché Come mi sono divertito Con lui Mi sono divertito Con pochissime altre persone Finora E credo che sia La stessa cosa Anche per lui Per cui Insomma Diciamo che Abbiamo in cantiere Tante cose Io da solo O anche con lui Speriamo di Di farle al più presto Questo significherebbe Vaccino arrivato Gente vaccinata Coronavirus Fuck Scusa L'inglesismo Esatto Allora Io volevo chiudere Proprio con Con questo Lanciando un 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 Auspicio Per questo Covid-19 Sperando che Tutto si chiuda Questo momento Delicato Per tutti Insomma Anche per voi Artisti Insomma Soprattutto Beh È stato Un anno Da dimenticare Un auspicio Da parte di Dario Gai Beh intanto È stato un anno Da dimenticare Non solo per gli artisti Ma io parlo Sono molto attento Per esempio Alla categoria Della ristorazione Che ne risentiamo Tantissimo Agli artigiani Ai piccoli negozi Alle piccole realtà E c'è tanta gente A Milano In coda A pane quotidiano Perché c'è tanta gente Che non ha da mangiare E io parlo di Milano Poi Chissà In tutti gli altri Gli altri luoghi italiani E stranieri Insomma Questo virus È stato Peggio Della più feroce Delle dittature Di tutti i tempi Io quello che dico Non sopporto I negazionisti Non sopporto I complottisti Non sopporto Tutti quelli Che fanno Tutti questi ricami Intorno a una realtà La realtà è questa La gente muore La gente si ammala E ci sono medici Che sono anche morti Per curare Chi si è ammalato Infermieri Quindi adesso Dobbiamo affidarci Intanto al nostro buonsenso Avere ancora Un po' di pazienza Essere Fregarci un attimino Se quest'anno Il Natale Non sarà Come gli altri Natali Speriamo nel prossimo Però Sacrifichiamoci Ancora Un paio di mesi E poi Affidiamoci ai vaccini Io Guarda Appena arriverà Sarò il primo A farlo Appena me lo daranno Chiaramente Lo farò immediatamente Perché il giorno dopo Io voglio partire Per una vacanza Senza mascherina E noi Condividiamo Il tuo messaggio Ti ringraziamo Di essere stato Ospite Del salotto Della società Operaia E insomma In bocca al lupo Un grazie ancora Di essere stato con noi Grazie a Dario Gai Grazie a voi Io vi auguro Buon Natale Buon anno E magari ci sentiamo L'anno prossimo Quando magari Si potrà uscire E vengo a trovarvi E stiamo lì vicini Vicini Con grande piacere Va bene Ciao Grazie E allora Grazie A Dario Gai Lo aspettiamo Naturalmente Qui con noi Jesse Una lunga intervista Intervista in cui Hai ricevuto I complimenti Di Dario Gai Eh infatti Dario è stato Molto molto Gentile con me Praticamente Come ti Ti spiegavo prima Spulciando Su Youtube Ho trovato questo video E subito sotto Ho scritto Ma si può avere Sta coreografia No? E lui mi ha risposto Con una mail Molto gentile Molto E mi ha detto Sì sì Si può avere Di Patrizia Mancini Ok Gliela chiedo E te la mando E poi mi ha mandato La coreografia L'ho imparata Come avete visto Insomma Dal piccolo video E L'ho Diciamo Trasmessa Poi mi ha detto Dario Allora Facciamo anche Una challenge Voglio lanciare Una challenge Con L'estratto Diciamo Del video Quello un pochino Più Conosciuto Che Quello che ti rimane In testa E ho detto Certo Ci mancherebbe Allora l'ho proposta Subito ai miei Boys and girls Ci mancherebbe E quindi Niente Proposta a loro È venuto fuori Un bel lavoro Ecco E Ci siamo divertiti tanto La vediamo questa challenge Io sono Pettegola Sotto Una Pettegola Calubiatrice Sulla Lavatrice E la challenge Naturalmente La potete trovare Su TikTok È un social No? Per chi non lo conoscesse È un'altra Forma di social Dove Adesso va molto Di moda Queste Challenge Certo Le challenge Su TikTok Io ho iniziato A farle Con i miei figli Quindi Proprio Sono carinissime Sono divertenti Piccole Brevi Però Molto Molto carine E Appunto Ci sono anche Tutti i miei stratti Di tutte le coreografie Proprio Su TikTok Jesse Trainer Sempre Jesse Trainer Visitate numerosi La pagina Facebook Di Jessica Zagalia Potete trovare Tutti i suoi appuntamenti Ti avevi qualcuno A salutare Jesse Certo Ma c'è il follino Perché io non sono Tanto brava Con le parole Va bene Quindi Leggo Vai Velocemente Velocemente Vai Allora Vorrei ringraziare Per il video Della challenge Martina Daniela Prima di tutto Che sono le mie Trainer Martina Una mia grande amica Daniela La mia mamma Che balla con me Saluta Poi Manila Che è la mamma Di Martina Renzo Che ha ballato Anche tutta la coreografia La potete vedere anche sulla mia pagina Cinzia Elisabetta Scilla Maddalena Luciana E Nadia Che con la sua collega Ha ballato anche la coreografia All I want for Christmas Vestite da mamme Natale E oltretutto Questa coreografia L'hanno fatta anche diversi miei allievi Sulla nota di Hypnotized Quindi Insomma Molto carino da vedere Poi ringrazio Demis Che non l'abbiamo visto Ma ha fatto anche lui La challenge Vestito da Deadpool Quindi potete vedere Grandi fiato Anche lui E poi Ringrazio ancora I miei sponsor Diciamo Un altro messaggio commerciale Vai andiamo Poesie Mode intimo di Malloggi Sandra A Fornacette E il Ponticello Che è del mio babbo Azienda agricola Di Zagalli Alessandro A Navacchio Che effetto Anche consegna a domicilio Certo L'hai detto prima E poi ringrazio anche La società operaia Che mi ha ospitato E la società operaia di Cascina Ringrazio te Antonio Con molto piacere Ringraziamo anche la regia Barbara Acconcio Perché ci sopporta E ci supporta In questa nostra avventura Che è partita Da quattro Settimane Adesso la società operaia Naturalmente In questo periodo Di forte difficoltà Economiche Per le famiglie Sì Buttiamo via così Vabbè Vuoi aiutare L'attività del territorio E dal 2021 Naturalmente Parte il tesseramento Per Tesseramento Per i soci Il quale potrà Usufruire Del vantaggio Presentando la tessera Della società operaia Molti Esercizi commerciali Hanno già aderito Alla Fidelizzazione Salutiamo E ringraziamo Barbagli Gioielleria Pasticceria Lemmi Free Time Mode Abbigliamento Teorema Abbigliamento Uomo Donna Naturalmente Tutti sul corso Matteotti Qui a Cascina Poi la panetteria Ceccotti Non solo Fiori Immagini Ottica Poi New Beauty Poi tipografia Bertini Che ci supporta sempre Il Carato Bottega Orafa Elio Doro Poi naturalmente Un grazie Un ringraziamento Va anche Al Bomboniere Per Tutti Di Paola Cervo Elio Grafica Di Paganelli Silvana Bar I Portici Di Marco Scarselli Grafic Di Grafic Art Buffetti Di Ilenia Faucci In Viale Comaschi A Cascina Grazie 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 Di aver Partecipato Alla Convenzione Già Da dicembre E Ricordiamo Tutto Il 2021 Un grazie Anche Agli Sponsor Che Appoggiano Il nostro Format Il salotto Della società Operaria Grazie Ad Antonio Onesti Arredamenti Che ha offerto Queste due Splendide Poltrone Via Michelangelo A Cascina Expert Casa Market Via Tosco Romagnola A Calcinaia Banca Di Cascina Via Ale Comaschi Farmacia Piccioli Corso Matteotti SB Office Service In Via Pascoli Pasta e Vino Pastificio E Osteria Via Elio Vagelli A Cascina La Piccola Stalla Spighe E Papaveri Anastasia Fashion Academy Spighe E Papaveri Camice E Dintorni Via Tosco Romagnola 849 Questi sono gli sponsor Del nostro format Del Salotto Della Società Operaria Quarta puntata Ringraziamo Tutti quelli Che hanno seguito Questa diretta Continuate a seguire La nostra pagina Facebook Della Società Operaria Di Cascina Dove troverete Tutte le nostre news E le date Dei nostri Prossimi appuntamenti Noi non molliamo Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.